il punto che dovete raggiungere voci dall'infinito attraverso vanda albano 2 giugno 1998 ora ci riferiamo a voi per essere coerenti e in linea dovete orientare l'obiettivo verso un punto un solo punto che vi porti verso quell'armonia tanto faticosa da raggiungere vi incitiamo a non fermarvi continuamente ad analizzare perché questo e perché quello il punto che dovete raggiungere è la luce cioè l'amore abituati come siete a vedere con gli occhi materiali forse per voi è difficile immaginare luce energia calore e vibrazione in un solo punto che nella vostra fede chiamate dio padre anche se ciascuno si esprime come meglio può non sono poi così distanti tra loro i modi di chiamare e pregare il creatore se orientate il vostro sguardo verso una stella avrete un'idea della luce della vibrazione se poi guardate il vostro sole allora sentirete anche il calore e la potenza energetica della luce da tutto ciò trarrete una sensazione d'armonia che può rispecchiare farvi concepire cosa sia il fulcro centrale cioè la forza che mantiene in perfetto equilibrio tutta la creazione